Bene da tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Mau, oggi siamo qui perchè andremo a parlare dei regali che ci faranno da Epic Games per il set di Aquaman Benissimo ragazzoli, nello scorso video vi ho spiegato che missioni dovete fare per sbloccarli e oggi li andremo a vedere in game Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, commento, iscrizione e supportarmi ai negozi oggetti di Fortnite con il mio codice che toglie socialmau E niente ragazzoli vi ricordo anche di iscrivervi e niente andremo a vedere questi bellissimi regali che ci daranno col set di Aquaman Benissimo ragazzoli, se voi andate qui nella sezione sfide della mappa e vi dirigete nella sezione sfide Aquaman potete osservare tutte le missioni che poi usciranno Invece in alcune c'è scritto proprio visualizza ricompensa e a quel punto se noi schiacciamo triangolo per io che sono da play ci spunterà la ricompensa Quindi conchiglia suprema, questo qua ragazzoli dovrebbe essere il backpack di Aquaman, molto carino però non so se lo utilizzerò Però è figo, sarebbe stato ancora più figo se fosse stato reattivo tipo con delle boldicine, non lo so Però abbastanza carino eh, molto carino Poi ragazzoli se noi scendiamo sotto qua non c'è nessun regalino perché non so cosa ci daranno, mi sa da skin di Aquaman Quindi non ce la fa ancora vedere Invece come tra tre giorni, ragazzoli tra tre giorni sbloccheremo Signore signori signori, il tridente di Aquaman, guardate un po' Tra tre giorni sbloccheremo questo fantastico tridente, sentiamo il sound Ragà, ma mi ha deluso Pensavo fosse tutto figo Ragà, è un normalissimo suono Ma dai, epic, questo qua potevi farlo meglio eh Però, sempre un piccone gratis per comunque solo le persone che hanno acquistato il pass battaglia Molto bello anche questo, dai, carino per completare il set di Aquaman E per concludere così in bellezza, vabbè qua ci sono i regali che abbiamo già ottenuto Quindi a scremata di caricamento E poi lo spray, quindi veramente figli anche questi Ragazzoli, oltre a questo ci sono molte cose di cui vi devo parlare Durante la stagione il livello dell'acqua si abbasserà Infatti il primo luglio, molto probabilmente, il livello dell'acqua scenderà E verso fine season troveremo una nuova località chiamata Atlantide Che sarebbe il punto di interesse dove sarà situato Aquaman Sarà dove adesso nella mappa c'è un mega, come posso dire, un mega uragano Un mega mulinello, ragà In quella posizione là spunterà Atlantide che sarà una città secondo me molto, molto figa Vedremo un po' più avanti Però ragazzoli, altre cose che vi devo parlare, niente, rivediamoci benissimo La skin di Aquaman, ragà Comunque fatta, fatta Molto bene, molto bene, molto bene Un'altra cosa ragazzoli, vediamo lo shop di oggi Se qualcuno magari non l'ha ancora visto Come ieri c'è ancora la skin Renegade Rider Vampa Ecco da qui ragazzoli Sinceramente Non mi piace moltissimo, però è carina Dai, ci sta abbastanza Ci sta, ci sta Poi vabbè, lo zainetto, anche questo è abbastanza carino Ha il buco nero infiammato, ovviamente Ragazzoli, c'è il pacchetto da 600 V-Bucks Che, no, il pacchetto da 4,99€ con 600 V-Bucks Skin E piccone, veramente anche questo qua Molto bello, molto fatto bene Poi ragazzi, vabbè, abbiamo qua poligono di tiro Ciro a segno Quindi anche questa qua è molto carina Però, sicuramente è troppo luminosa in game Non lo so Vabbè, sentiamo un po' Carino anche questo Poi se lo trovate è ritornata da squad Dei dinosauri in versione cubo Eccolo qua In possesso Poi ci abbiamo il T-Rex Anche questo è molto, molto figo Vabbè, ho 6 dinosauro scuro Ascoltiamo Ci sta anche queste E il 7 si è concluso qui Poi ci abbiamo il 7 dello slurp Ecco qua Animale da festa Questo qua è uno dei più belli, secondo me Poi abbiamo rapace Bello anche questo, comunque Vabbè, velocità E poi bombardiere d'assalto Molto carino anche questo Poi ci abbiamo un mastino Skin da 1200 V-Bucks Ci sta, carina Skin easy Molto bella Poi ci abbiamo rompighiaccio Anci Anzi, anzi, anzi Ci abbiamo slurp Mamma mia, raga Mimeticata 700 V-Bucks Carina, carina, carina Poi ci abbiamo rompighiaccio Ascoltiamo Come suono Mi sa che è uno dei migliori picconi Poi ci abbiamo Milite d'assalto Skin da 800 Fantastica Perché riporta un botto Allo stile delle skin Di folto G Bellissime Poi ci abbiamo applauso lento Anche questo è molto carino E ci abbiamo Sogno A occhi aperti Balla 800 V-Bucks Anche questo è molto Molto bello Ci sta Lo shop di oggi è questo Riparlando di nuovo Delle sfide di Aquaman Ecco qua Le sorprese Che troveremo All'interno delle missioni Quindi ragazzuoli Tra tre giorni Sbloccheremo Il fantastico Mitico Piccone Di Aquaman Riascoltiamo Riascoltiamolo GG ragazzuoli Poi vabbè Sbloccheremo anche Il backpack E poi in finale La skin E niente Se questo mini video Vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Di nuovo Like Commento Iscrizione E supportarmi Con soggetti Forte Con mio codice Catore Social MAU E noi ci vediamo Per un prossimo video Bella boys E noi ci vediamo